E' incredibile gente, adesso che siamo ricchi la nostra vita andrà molto meglio Sicuro che sia stata una buona idea farti dare il premio in contanti Mi sembra folle avere tutti questi soldi in giro per casa Cos'è? Volevi metterli in banca sotto gli occhi lascivi di quegli ebrei? Sì! 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 Su così!